Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova Pokken Direct Mini, in cui annunceremo nuovi trailer di giochi già annunciati e altri che non abbiamo ancora annunciato, beh. Diciamo che possiamo cominciare. Allora, come che vi abbiamo annunciato su Instagram, a partire da oggi, dalla fine della Pokken Direct Mini, cambieremo logo da quello attuale del secondo anniversario, ad uno completamente nuovo ed innovativo, per l'inizio del nuovo anno fiscale. Questo logo, come vedete ha una T e una G, che in certi casi può sembrare una C, e sta a significare, come potrete benissimo immaginare Team Pokken, Gaming & Design. Lascio la parola al presentatore. Allora, come vi pare il nuovo logo del Team Pokken? Questo nuovo logo sarà presente nei nostri canali ufficiali a partire dalla fine di questa Pokken Direct Mini. Vabbè passiamo al prossimo e primo titolo che vi mostriamo oggi. Ciao. 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 Grazie a tutti. 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 Allora, che ve ne pare del nuovo trailer o anzi il nuovo trailer del gioco Pokken Fit Adventure? Beh. Passiamo, adesso invece ad un nuovo trailer riguardante un gioco che è indirittura d'arrivo con la sua prima versione demo il giorno 30 dicembre di quest'anno, posticipato di ben un giorno da quando ve lo avevamo annunciato. Buona visione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, a partire a tutti. Grazie 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 a tutti.